Un pareggio alla fine è anche giusto quello che però ha fatto uscire l'Atletico Etruria dalla Coppa Toscana di prima categoria, una partita che si è giocata in notturna sul campo di Acciaiolo alle ore 20 e 30. Un primo tempo più divertente, un secondo tempo caratterizzato da quattro espulsi e due performazioni che hanno un po' segnato lo svolgimento di questa ripresa. Nel primo tempo partivano bene i padroni di casa che già al secondo si facevano vivi con uno scambio vero alla Scardigli che sbagliava completamente canciando a lato. Al decimo era il Cecina a farsi pericoloso con Favilli che entrava in aria e metteva dentro ma nessuno sfruttava l'azione e si perdeva in nulla di fatto. Al ventitresimo Scardigli imbeccato in aria segnava la rete del vantaggio sull'uscita del portiere e lo stesso attaccante dell'Atletico Etruria si faceva pericoloso al trentacinquesimo quando dopo una sua punizione finita sulla barriera raccoglieva la respinta e mandava alto di poco sulla traversa. Gli ospiti però al quarantunesimo riagguantavano il pareggio sul rigore concesso per un atterramento in area di un attaccante ciccinienese da parte del difensore Fedi. Dagli 11 metri Sandri non sbagliava e si andava a riposo in parità. Il secondo tempo era più che altro caratterizzato dai quattro espulsi due per parte del fatto che forse i padroni di casa avrebbero dovuto sfruttare i due espulsi del Cecina che aveva di fatto messo in superiorità numerica l'Atletico Etruria prima dei due rossi subiti successivamente. Le occasioni più importanti per l'Atletico quando Bonini metteva sul secondo palo e Anastasi calceva alto. Poi al diciannovesimo cross da destra con Verola che di testa costringeva il portiere ciccinese ad una gran parata. Al quarantesimo era Anastasi a provarci da fuori ma il portiere parava ed infine un minuto dopo al quarantunesimo altro paratone del portiere su Verola che di fatto metteva la parola fine alla partita e anche alla speranza dei padroni di casa di proseguire nella Coppa Toscana.